bentornati amici eccoci all'interno di illustrator andiamo a vedere in quanti modi diversi è possibile importare un'immagine all'interno di un nostro documento cominciamo dal primo metodo andiamo a reperire l'immagine che vogliamo importare non facciamo altro che prenderla e trascinarla sull'icona di illustrator nella dashboard quello che succede è che viene lanciata una finestra di dialogo che ci chiede come vogliamo importarla se vogliamo assegnare un profilo colore in questo caso io assegno adobe rgb 1998 posso anche lasciarla com'è ma preferisco assegnare un profilo perché in ogni caso al momento dell'esportazione lo dovrò fare quindi preferisco farlo da subito visto che questa immagine ne è priva ok vediamo che quello che succede è che è stato creato un nuovo documento che contiene la mia immagine e contiene anche una tavola se andiamo a vedere questa tavola andiamo a scoprire che è grande 210 mm per 297 cioè una 4 probabilmente questo formato deriva dall'ultimo documento che è stato creato da questa versione di illustrator quindi avendo io creato per ultimo un documento a 4 mi ripropone lo stesso formato non va quindi a matchare automaticamente quelle che sono le dimensioni dell'immagine ora io vado ad aprire i righelli premendo command o ctrl r così riesco a navigare a vista un pochettino più facilmente ci sono due cose che si possono fare a questo punto posso selezionare la mia immagine importata con lo strumento sposta che si seleziona col tasto v da tastiera posso prenderla inserirla all'interno della mia tavola le guide calamitate mi aiutano posso ridimensionarla se la ridimensiono e basta vedete che è libera se invece tengo premuto shift si bloccano le proporzioni e quindi si blocca il rapporto tra lato lungo e lato corto e la mia immagine non viene deformata in questo modo la mia immagine è inserita all'interno della mia tavola potrebbe però non essere quello che volevo fare quindi annulliamo e ricominciamo da capo un'altra cosa che io potrei voler fare è cambiare la tavola in maniera tale che matchi la mia immagine perché magari questo è il formato già giusto per la mia immagine allora quello che vado a fare è che vado a recuperare lo strumento tavola da disegno che si richiama con shift o da tastiera quello che posso fare è prendere la mia tavola da disegno e andare a ridimensionarla in maniera tale che matchi l'immagine quindi le guide calamitate di nuovo mi aiutano un'altra cosa che posso fare però se voglio mantenere questa tavola intatta e voglio crearne una nuova sempre con lo strumento tavola da disegno selezionato posso andare a cliccare trascinare creando una tavola da disegno completamente nuova in questo modo avrò tavola 1 e tavola 2 le tavole sono riassunte in questo pannello tavole da disegno artboards che ovviamente se non avete trovate dentro finestre questo metodo funziona se stiamo cercando di creare un nuovo documento che contenga un'immagine ma che cosa possiamo fare invece se abbiamo già un documento aperto e vogliamo inserire un'immagine al suo interno tenete conto che questo metodo funziona anche se abbiamo un documento con già degli elementi al suo interno e con già delle tavole nel momento in cui abbiamo un documento aperto invece di andare a selezionare una foto e portarla sopra l'icona di illustrator possiamo fare diversamente possiamo andare su file e selezionare place comando da tastiera è command shift p andiamo a selezionarlo e immediatamente viene richiamata la finestra di dialogo che ci permette di selezionare la nostra immagine e qui possiamo decidere se vogliamo linkarla in questo caso l'immagine è linkata se togliamo il link l'immagine verrà incapsulata all'interno del documento andiamo a inserire l'immagine in questo caso si apre questa finestra di dialogo io gli dico che voglio continuare con le operazioni ed ecco che posso posizionare la mia immagine ora io posso cliccare e trascinare vedete che il rapporto tra lato lungo e lato corto è bloccato e in questo modo posso inserire la mia immagine già nelle dimensioni che voglio oppure posso andare a prenderla se io invece di cliccare e trascinare clicco me la inserisce al 100 per cento delle sue proporzioni originali quindi questo probabilmente è quello che voglio il 90 per cento delle volte andrò a ridimensionare la mia immagine in seguito ora una cosa molto interessante da notare su questo metodo è che funziona anche con più immagini infatti nel momento in cui io vado a selezionare più di un'immagine vado quindi a selezionare place dal mio menu vado a selezionare non più una sola immagine ma due vedete che posso ancora scegliere se linkarle oppure no nel momento in cui io gli dico place e di nuovo vado a dirgli sì vedete che di fianco al mio puntatore viene fuori un numerino c'è scritto uno di due in questo caso io posso posizionare la prima immagine e poi posso cliccare e trascinare e posizionare la seconda oppure il contrario in questo modo ho posizionato due o più immagini all'interno del mio documento con una singola operazione a questo punto vi segnalo un altro metodo per fare esattamente la stessa cosa che però è più rozzo e diretto e molto spesso ci si trova a utilizzarlo proprio per questo si tratta del famoso drag and drop è infatti possibile selezionare un'immagine direttamente dalla scrivania di una cartella e trascinarla nel nostro documento io faccio questo movimento e immediatamente ho la mia immagine con le sue dimensioni originali posizionata all'interno del mio documento di illustrator ora facciamo un ripassino e vediamo anche qualcosina in più intanto premiamo command option 0 così andiamo a portare il nostro la nostra tavola da disegno a misura di schermo successivamente premiamo command shift p e quindi andiamo a fare place vado a selezionare entrambi questi documenti e gli dico effettivamente place qua continua a dirgli di sì a questo punto posiziono il mio primo documento dopodiché le guide calamitate per fortuna vengono in mio aiuto posiziono il secondo documento eccoci qua in questo modo ho posizionato entrambi i miei documenti all'interno della mia tavola da disegno che sia giusta o sbagliata a questo punto quello che mi preme farvi vedere è questo pannello il pannello links che troviamo ovviamente all'interno di finestre se non ce l'avete eccolo qui andiamo ad aprire questo pannello e vediamo che qui compaiono le nostre due immagini nel momento in cui vado a selezionare un'immagine dentro nel mio documento viene selezionata anche all'interno di questo pannello in questo modo riesco ad avere una referenza se la nostra immagine è presente oppure no all'interno del documento vi faccio vedere questa parte perché perché nel momento in cui io vado a rimuovere una delle due immagini in questo caso l'ho buttata nel cestino ecco che in questo momento illustrator mi avvisa che alcuni file sono mancanti per cui mi chiede se voglio ricollegare l'immagine mancante io in questo caso gli dico no perché voglio farvi vedere che cosa succede nel caso io non avessi più l'immagine originale compare questo simbolo di avviso di fianco alla mia immagine e io in questo momento riesco ancora a vedere la mia immagine anche se la qualità è decisamente deteriorata ma quello che succede nel momento in cui faccio un export o vado in stampa è che avrò un'immagine con una caduta qualitativa molto evidente perché l'immagine originale non c'è più è rimasta solamente l'anteprima di visualizzazione all'interno di illustrator per cui non è più possibile esportare questo file quando si verifica un fatto di questo tipo bisogna andare a recuperare l'immagine in questo caso io l'ho buttata nel cestino per cui vado a recuperare l'immagine e la rimetto nella location originaria dove illustrator sa di poterla andare a trovare infatti vedete che l'immagine è stata riallocata automaticamente se vogliamo evitarci problemi di questo tipo una cosa che possiamo fare è selezionare la nostra immagine andare sul menu a panino di questo tab e andare a dirgli incorpora immagine come potete vedere compare questo simpatico simbolino di fianco alla nostra immagine ora la differenza tra queste due immagini è che questa immagine ovvero quella sopra è incapsulata nel nostro documento che cosa significa questo significa che anche se io vado a eliminare o spostare perché è sufficiente cambiare la posizione se io vado a eliminare questa immagine dalla nostra cartella all'interno di questo documento non si verifica assolutamente nessun problema perché questa immagine ormai è caricata all'interno di questo documento di illustrator per cui io posso buttare via l'originale e poi esportare questa tavola senza nessunissimo problema diverso è per questa seconda immagine perché questa non è incapsulata nel documento per cui nel momento in cui io vado a buttarla via ecco che nuovamente illustrator mi segnala un errore e mi chiede se voglio riallocare l'immagine quindi io potrei andare a dirgli rimpiazza e potrei andare a selezionare la nuova location di questa immagine ecco qui gli dico rimpiazza ed ecco che nuovamente illustrator me la abbina questa volta sta andando a pescare quest'immagine dal mio cestino è un procedimento molto scorretto l'ho fatto solo per farvi capire come funziona il relink delle immagini se volete evitare quel problema ovviamente potete incapsulare l'immagine all'interno del vostro documento di illustrator ma attenzione perché questo comporterà una crescita sostanziale del peso di suddetto documento quindi se stiamo facendo un artwork con una singola immagine lo possiamo anche fare se stiamo disegnando diverse tavole con all'interno molte foto innanzitutto vi suggerisco di utilizzare in design invece di illustrator ma se non avete in design se non lo sapete usare o se siete più agevoli su illustrator vi consiglio di lasciare le immagini linkate in questo modo riusciamo a evitare di appesantire il nostro documento infarcendolo di immagini che potrebbero essere semplicemente linkate dal nostro computer o dalle nostre cartelle dove sono già comodamente allocate un'ultima cosa che voglio farvi vedere riguardo all'importazione delle immagini sono le impostazioni del colore del nostro documento nel momento in cui noi andiamo su edit o modifica e andiamo su assegna profilo possiamo infatti scegliere un profilo colore con cui lavorare per questo documento in questo caso stiamo lavorando con adobe rgb 1998 che è quello che ho impostato come default per il sistema si tratta di un profilo colore che consente un agevole transizione tra le modalità rgb e quelle ciano magenta giallo e nero per la stampa ora in questo momento io sto lavorando in rgb per cui sto assumendo che questo documento dovrà essere esportato probabilmente per il web il nostro computer ci aiuta l'interfaccia qui mi segnala che il documento è rgb quindi ho sempre modo di verificarlo semplicemente buttando un occhio qua io sto lavorando in rgb e quindi questo documento probabilmente dovrà essere visualizzato su dei monitor su degli schermi perché il metodo rgb è quello che si utilizza nel momento in cui io voglio esportare un documento che vada a essere visualizzato su degli schermi che cosa succederebbe però se io volessi stampare questo documento andrebbe ancora bene quel metodo la risposta è no non andrebbe più bene in questo caso bisognerebbe fare due cose la prima cosa bisognerebbe andare su file document color mode e passare da rgb a quadricromia ciano magenta giallo e nero quindi vado a fare questo passaggio successivamente vado su modifica assegna profilo e in questo caso vedete che il profilo di default è il fogra 39 che è un profilo di quadricromia che ho impostato come default per il mio documento in questo caso a me va già bene perché il fogra 39 è lo standard per la stampa in italia in europa in generale se avessimo a che fare con un cliente giapponese probabilmente dovremmo andare a inserire un profilo colore diverso probabilmente segnalato dallo stesso cliente ma in questo caso siamo tranquillissimi a lavorare con il fogra 39 io gli dico ok in questo modo ora questo documento è pronto a essere esportato per la stampa bene amici con questo è tutto spero di avervi dato qualche utile info con questa breve panoramica e di avervi insegnato tutti i modi in cui potete inserire delle immagini all'interno del vostro documento di illustrator io vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like e un commento a questo video soprattutto se avete imparato qualcosa di utile e vi do appuntamento al prossimo video iscrivervi al canale Grazie a tutti.